Erano state aggredite colpi di catene bassoni a conclusione del derby tra la Lucchese e l'Arezzo. Adesso per i due tifosi rossoneri, un 33enne ed un 39enne, secondo l'accusa responsabili dell'assalto alle tifose a Maranto, è stata fissata l'udienza preliminare. Il PM di Lucca ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per i due imputati, accusati di lesioni personali in concorso con l'aggravante dell'uso di un'arma. Secondo gli inquirenti, due avrebbero infatti agito in concorso tra loro e con altri tifosi non ancora identificati. Il GIP del Tribunale di Lucca, dove si sono svolti i fatti, ha fissato l'udienza per il prossimo 10 luglio. L'episodio risale al 16 settembre 2018, quando pochi minuti dopo la fine del match, a poca distanza dallo stadio Porta e Lisa di Lucca, le tre donne a retine, tra cui una signora di 77 anni, mentre si trovavano già in auto, furono circondate dai faccino rosi. Si stavano dirigendo verso la circonvallazione per imboccare poi l'autostrada. Le tifosi a Maranto furono minacciate con spranghe, catene e bassoni. Gli aggressori poi si accanirono anche ai calci contro l'auto. Le donne riuscirono a fuggire e a dare l'allarme al 113. Due di loro rimasero ferite, una alla spalla ed una alla testa. Per entrambe furono riconosciuti 20 giorni di prognosi. I tifosi della Lucchese, secondo quanto ricostruito dal PM, quella folle notte. Non si fermarono però qui, subito dopo l'aggressione ai danni delle tre donne a retine, passarono all'attacco di un'altra auto, sempre della carovana Maranto, in questo caso, per fortuna, senza grosse conseguenze.